Cari amici, almeno una volta tanto sorridiamo. Attenzione, si tratta di un sorriso amaro, perché siamo tornati, siamo quasi addirittura d'arrivo con le elezioni, quindi era normale prevederlo, però così presto no. Siamo tornati alle rivelazioni, escort e viaggi a politici in cambio di appalti. Per me non sono un delitto 202 euro per l'Aragosta, d'altronde ho pranzato con l'Aragosta, cosa volete? Ma erano soldi nostri e non tuoi? E no, tu puoi pranzare pagando l'Aragosta e lo champagne come ti pare con i soldi tuoi, con i miei, no? E allora che cosa succede? Succede che siccome nessuno ci vuole far mancare niente, Allora, dopo le mutande verdi della Lega, dopo le varie escort a destra e a manca, niente di meno che nella formalissima, pulitissima e onestissima Bolzano, la destra gode per il rimborso del vibratore. Ecco, qualcuno a Bolzano, a quelli che hanno detto che lo Stato italiano gli faceva schifo, dallo Stato italiano sì che se lo sono fatto pagare il pacchetto con i tre vibratori e con altra roba che non è opportuno dire e scrivere sui giornali, così dicono da Bolzano, e che per carità di patria non ho messo in effigie con una fotografia di un vibratore, ma ho messo la banda Bassotti perché ho messo tutto in quel calderone. Bolzano, ma come? Fino all'altro ieri ti faceva schifo quello che succedeva a Roma? Stai facendo la fine di Bossi? Roma ladrona, ma Bolzano è ci siamo come? Dai! Vergogna da nord a sud, da est a ovest. Siete stati uno schifo, siete stati la peggiore cosa che sia capitata all'Italia. Nemmeno, nemmeno i Savoia riuscirebbero in così poco tempo a fare come avete fatto. E i Savoia sono stati delle cavallette nel corso dei secoli, si sono svenduti tutto. Voi avete fatto peggio.